Ciao a tutte e ciao a tutti, amiche e amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se avete piacere iscrivetevi anche al mio canale, ricordatevi bene di attivare la campanella per rimanere aggiornati o aggiornati su quelli che saranno i miei prossimi video. Allora, in questo video ho pensato di proporvi qualcosina di simpatico, di diverso, anche in occasione dell'8 marzo, quindi della festa della donna. Io sono stata contattata da Eros Rovoletto, che è il compagno di una mia carissima amica, a cui io mando un bacio grande, e che scrive poesie. Ha scritto delle poesie in occasione della festa della donna e mi ha appunto chiesto se mi faceva piacere leggerle sul mio canale. Io ringrazio nuovamente Eros per aver pensato a me, per avermi dato anche questa possibilità e appunto ho pensato di proporle, quindi insomma di condividerle anche con voi. Ed ecco appunto che inizia la lettura delle poesie. Allora, questa poesia si intitola La Rosa. Ed ecco anche un'altra Poesia è scritta sempre appunto da Eros Rovoletto Disegno speciale Nel suo movimento, nel suo insieme Un connubio perfetto, di testa e fisico Si può solo apprezzare Non si può insultare, non si può calpestare Fonte di linfa, eleganza e sessualità La donna è il sublime Come il cielo all'imbrunire Nel mondo reale la puoi solo ammirare Allora, questo diciamo breve momento Finisce qui Io vi ringrazio per aver guardato anche questo mio video E appunto fatemi sapere se appunto vi piacciono le poesie Se appunto vi fa piacere anche la possibilità di avere Di condividere attraverso canali youtube La possibilità quindi di conoscere anche poesie Che chiaramente non Altrimenti non si avrebbe la possibilità di conoscere Io ringrazio nuovamente Ero Sorvoletto Per avermi dato questa possibilità Un bacio a tutte Un bacio a tutti Ringrazio i nuovi iscritti, i vecchi iscritti E tutte le persone che scrivono dei bei commenti Appunto giù nel canale Che quindi mi danno la possibilità di interagire sempre In maniera costruttiva, in maniera positiva Grazie di cuore Quello che state facendo per me è veramente importante E ci vediamo nel mio prossimo video Ciao, 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 ciao